Durante questo weekend Ilias Malumo si trovava a Milano insieme a una serie di personaggi abbastanza controversi come Donali per esempio, che è diventato virilissimo per il suo ultimo video dove si è spaccato una bottiglia in testa, video che purtroppo ha comportato anche la sua chiusura momentanea nel profilo Instagram principale. Ebbene, durante questa serata Ilias, Donali e gli altri presenti hanno preso un taxi, ma Ilias sembrerebbe aver vomitato all'interno di questo taxi. Neanche a dirgli il taxi sta andando su tutte quante le furie e loro sono scappati ed è intervenuta anche la polizia. Ma non aggiungo altro e vi lascio alle stories, fatemi sapere con un commento qui sotto sulle mensale. Noi scegliamo un prossimo video in linea. Per il culo? Chiamiamo i carabinieri, non c'è quello. Occhiavo! Non è che la puliscono i carabinieri. Adesso mi stai facendo incazzare bro, siamo stati bravi, adesso non provo i coglioni, dai. Facciamo i bravi, porta a puttano con la gente, 150. Mi avete vomitato in macchina, dov'è che siete bravi? Prendi il coso dell'acqua, oh, non lo vede più nessuno. Non ti preoccupare. Ma non lo vede più nessuno. Tanto, chi è che ha chiamato? Dai, chiama i carabinieri che sono qua adesso, dai, ma a testa di cazzo. I carabinieri ti, cosa, cosa dirai? Prendiamo un altro taxi. E poi offendere, offendere così il mio piccolo, il mio piccolo che non sta bene, offenderlo così. Il mio piccolo. Raga, mi ho obbligato di bere. Arrivano gli sbirri. Scappiamo, frate. Arrivano gli sbirri. Dai, andiamo. Scappa, scappa, arrivano gli sbirri. Aiuto, aiuto, aiuto. Tanto, stai. No, 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 lì, no, lì, no, lì, no. Un po' ci danno furto al gravato. Vomito al gravato. Ma gli abbiamo pagato almeno il taxi, no? No. No, un cazzo. Questo è furto al gravato. Oh, bravo, bravo, bravo. No, no, scappa. Aiuto, 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 aiuto. Il tuo volito di merda ci ha rovinato. Ti fa mandarti nell'altro taxi di puttana. Aiuto, c'è la polizia. Aiuto, aiuto, aiuto. C'è la polizia. Fuck you, fuck you. Fuck you, no, un altro taxi. Mi rossi. Chiama un altro taxi, bro? Chiama un altro taxi.